Benvenuti a Radio Beckwith a Luserna San Giovanni. Come ben sapete Radio Beckwith quest'anno compie 30 anni e questo è un evento importantissimo. Ma c'è un altro evento importante nella vita di Radio Beckwith. Come ogni anno infatti rinnoviamo il palinsesto. Il palinsesto invernale dal 6 ottobre fino a maggio. Grazie ai nostri potentissimi mezzi tecnologici abbiamo realizzato un palinsesto in collaborazione con i nostri collaboratori assolutamente innovativo. I nostri tecnici sono già al lavoro per realizzare tutto quello che ascolterete. Paolo e Paolo cosa ci sarà giovedì alle 17? Molto bene. Ma questa non è l'unica novità che potrete ascoltare su Radio Beckwith. Radio Beckwith infatti da quest'anno collabora attivamente con Riforma. Riforma e Radio Beckwith vi offriranno un completo set di informazioni per tenervi sempre aggiornati. Riforma si fa in quattro. No non così. Riforma sarà fruibile in ben quattro modi diversi. Ci sarà il settimanale cartaceo, un sito online aggiornato con tutte le informazioni in tempo reale, una newsletter che sarà fruibile su qualsiasi vostro dispositivo e un mensile free press in distribuzione gratuita con tutte le informazioni selezionate per voi. Ah lo so giovedì alle 17 c'è tra parentesi. Sì, grazie a questa doppia informazione sarete sempre aggiornati su tutto quello che succede nelle valli e fuori. Consultate i siti www.rbe.it e www.riforma.it 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 www.riforma.it